Per la mano ancora una conferma, il pivot Marino prolunga con l'Albatron. Vito Claudio Marino allunga il suo rapporto con la Team Network Albatron, la terza stagione consecutiva per il pivot arrivato due anni fa dal Bolzano. Sono davvero riconoscente per l'opportunità di continuare a giocare con questa squadra e ci tengo a ringraziare la società per la fiducia, commenta il pivot Fasenese. L'infortunio è stata una sfida, ma sono determinato a tornare in campo e contribuire al massimo delle mie capacità. Il giocatore 27enne ha recuperato completamente dall'infortunio e dalla terza giornata dello scorso campionato lo ha costretto a un lungo stop. Ho lavorato duramente per recuperare completamente e per questo sono grato alla fisioterapista Melissa per la competenza e il costante sostegno durante questo periodo. Continua il numero 5, blu arancio. Sono ansioso di tornare in campo con i miei compagni e dare il mio contributo. Sono stati fatti importanti investimenti per rinforzare la squadra con giocatori di alto livello. Questo dimostra l'ambizione della società nel competere ai massimi livelli. Dovremo lavorare solo per toglierci molte soddisfazioni, conclude Vito Claudio Marino. Anche le altre squadre stanno modificando i rispettivi roster. Sarà un campionato vincente e proprio per questo non vedo l'ora di iniziare.